bene siamo qua per giuseppe ciao 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 a tutti conto del 51 e ti connetti maggiormente a giuseppe 5 4 3 no di micro e allora lo vedo e lui e lo vedo come se fosse è come se fosse seduto su una poltrona fatta tipo a semicerchio con uno schienale rigido ma da cui non si può alzare ok ti dà l'autorizzazione se valori vibrazione 70 milioni bassa ok percentuale di consapevolezza a causa esoterica di questo sentirmi male il fatto è che se iniziamo a lavorare sulla consapevolezza anche di chi lavora per loro inizia a essere pesante vogliono sapere tutti i dettagli il tema di oggi sono i militari una società di questo tipo in più prima di iniziare questa sessione mi vengono a riferire cosa che sapevo già ma insomma dei dettagli sono sempre piacevoli che un noto gruppo che si occupa di etnosi ha pagato espressamente proprio un uomo sui 35 anni che salutiamo salutano anche tu ciao 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 e si guarda tutte le sessioni no si guarda tutte le sessioni studiano comparano eccetera va bene analizzamolo velocemente e guardano le sessioni inedite quindi queste in diretta guardano quelle pubblicate o guardano quelle magari a volte precaricate sul canale ma non ancora pubbliche allora se se hanno urgenza le seguono cercano di seguirli in diretta come stanno cercando di fare oggi e anche stamattina hanno provato un po se invece non sentono una grossa urgenza ma notano che può esserci qualcosa che abbiamo fatto in seguito però se ne accorgono riescono a entrare nell'altro canale che abbiamo detto altrimenti diciamo se non c'è niente di così impellente se ne guardano di routine tutti i giorni ok e adesso sono collegati con noi certo fino a come adesso si sono scollegati in questo momento perché hanno sentito che la peccata fra un attimo si ricollegheranno perché pensano che non vedendo da più il capo di questo gruppo quanto è pagato dalla dai militari 20 mila la mente ma però ok con questi 20 mila se le mette in banca o ci paga i collaboratori cioè i collaboratori sono pagati extra sì quindi lui può chiedere tutti i collaboratori che vuole ma un numero deve fare una selezione specifica betta certo chiaro però ne ha un male traduzione limitato uno fa la segretaria l'altro fa quello che guarda i video e poi lui raccoglie quando in alcuni di questi momenti prende se ne va dove va allora vada questo tizio militare su capo si su superiore e poi ce ne sono altri due più in su e poi c'è il direttore del progetto che che è direttamente in europa nel senso come si chiama il direttore del progetto frank di origine inglese cognome till board il board sì ok inglese se inglese 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 non americano inglese è qui presente è arrivato adesso come se mentre diciamo mi appariva mi appariva il nome lui arrivasse e quello che invece segue tutti i video lo schiavetto 35 anni come si chiama daniele ok a settembre mi sembra mi hanno seguito e tu lo sai ma erano legati a loro si si erano legati a a loro non a loro direttamente al a bb di board diciamo ai capi insomma si è tutto esatto nel senso che non fanno parte di quelli stipendiati da quello che prende 20 mila euro ma diciamo è un'altra un altro gruppo dello stesso progetto che però fa altre cose come si chiama questo gruppo di militari cosa servizi segreti si si fa parte io lo vedo sempre sempre parte del deep state sono dei servizi segreti sono dei soldati militari più che soldati sono militari diciamo di una parola allenati nella parola attestrati addestrati per fare questo tipo di lavoro questo è lo scopo di setti di quelli che mi seguiva a settembre che si è fatto notare era di mandarmi nel panico come per dire state attenti perché li stiamo osservando la timore in grosa ok quello che mi ha scritto quello che sei tu cosa voleva uguale a parte di quel gruppo lì è un altro la donna che giaceva con quel capo e che probabilmente adesso non giace più invece il ruolo a quella che ogni tanto è venuta a provare a far interferire con il nostro lavoro la stetta con i capelli neri verina cosa neanche parlare italiano diciamo che più o meno è allo stesso livello di quello che stipendia dopo che adesso si ma la lavapiatti francamente adesso si si è fatta stipendia e certo ok come si passa da quella parte lì si è visto che ha parlato di deep state di cosa si parla stiamo parlando di iniziazioni sicc della capra hanno già fatto lì sì sì ma capra no sono il primo step come il primo se andiamo all'iniziazione di questa qua che non so parlare ok allora entrata nel diciamo si è fatta notare da quello che stipendia quello che prende 20 mila euro si è stato notare stato notare l'ha fatto con l'ha convinto a farsi di entrare nel suo mondo ok adesso lei si rivolge a quelli superiori ok però per entrare lì devi essere iniziato allora fanno un rito piccolo rito in poche persone sono 45 con questa persona ok arriva fanno tipo quelli che quello che deve essere iniziato lo vedo vestito con un mantello nero un cappuccio arriva sin ginocchia bassa la testa e fanno tipo un taglietto non so se un taglietto qualcosa sulla testa tipo un incisione che però probabilmente non è perché non rimane poi non la vedi dopo quindi probabilmente è solo sulla superficiale ok dopo questo rito che dura questo è proprio un rito così solo simbolico loro devono andare a letto con varie persone che gli vengono assegnate tra virgolette cioè non gli viene neanche detto chi sono né prima né dopo quell'ora lì in quel posto lì tu vai e senza fiatare fai quello che ti dicono ok per un po di volte per un po di tempo dopodiché inizi a partecipare solo partecipare vedere ok ai sacrifici davanti a tutti allora sono cerchi più grossi ok sacrifici di che tipo no solo non violentano e fanno tipo oggi così e tutti che guardano quel tipo di sacrificio ok per un questo del fisico nell'eterico nel fisico proprio io lo vedo fisico poi lo step che tu fai vieni fai parte del sacrificio cioè fai parte viene diventata vado va ma se sei uomo vedi diventato sì 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 di già sì 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 sia lui che lei e poi il prossimo step è iniziare a fare i sacrifici in persone a fare male poi iniziare a mangiare bere il sangue ma passa passa ancora un po di tempo vanno avanti un po a fare questa parte qua a essere sacrificando sì sì e quando arriverà a questo momento i guadagni saliranno alle stelle se sì certo più tu ci stai più aumentano come se si moltiplicassero esponenzialmente dimmi quanto ha guadagnato finora allo stipendiato da questa avventura ipnotica mi viene due milioni e mezzo di euro netti va bene torniamo a giuseppe oggi parliamo di militari e giuseppe è legato ai militari torniamo ai suoi valori 70 milioni percentuali di consapevolezza 125 per cento ok psp e ps 35 p e 65 numero di vite 927 e percentuali di cervello utilizzato nove e mezzo ok valore di consapevolezza di cervello molto alti vibrazione sotto le scarpe ok perché cause sotto i ricca della vibrazione così alta in contrasto con un'altra consapevolezza lui stesso ci ha detto che da sempre da bambino è a favore delle indagini su temi di confine non è così legato come dire alla scienza ufficiale cospirazioni e così via quindi l'alta consapevolezza può derivare da questo però perché così passa con vibrazione diciamo che quello quello che fa nella pratica cioè sia il suo lavoro e sia il suo atteggiamento nei rapporti sociali cioè quello che lui prova quello quello che lui sente nel rapporto così ok quindi il fatto che si sente un po isolato che si senta giudicato tenuto lontano ecco queste cose qua fanno sì che le vibrazioni rimangano molto basse e questa quest'ultima cosa è data da un'entità mentale di che livello 3 ti chiesti giudicato osservato e giudicato ecco che osservato giudicato sì esatto e quindi che si sente c'è ne soffre di questa cosa che il fatto che soffra di questa cosa fa sì che le vibrazioni stiano basse bene vive neanche un paese in un paese della fine perché tutti parlano di te tutti sanno tutti giudicano viene sapere che tutti sanno tutto di tutti questa entità mentale e combina che vivono in re no no perché vi sentite male non capisco non ci sono ora non ci sono ragioni per cui mi sentiate tornati a rompere qual è la causa sono tornato nella finiamo subito in fatti siamo mettiamo i nostri ad eternum intorno a questa connessione a questa sessione questi che ascoltano i militari lo stipendiato quella che non so parlare italiano vibrano alto no non possono vibrare alto io vedo che hanno una ps praticamente minuscola ok gli ad eternum gli dà un fastidio sì è come se lì il giallo piena casa piena tutti quelli che abbiamo citato hanno la casa piena di ad eternum e spiego a giuseppe che cos'è ce lo siamo inventati è un solino una pallina da ping pong che ad eternum cioè per sempre nel momento in cui la creiamo e l'abbiamo creata adesso emana altissime frequenze l'entità non la possono neanche vedere senza uno stare lontanissime perché si distruggono si avvicinano per spostarla per eliminarla non possono è una forma energetica che inizia adesso e non finirà mai più che noi mettiamo in un punto e che resta lì per sempre l'abbiamo messa dove ci sono gli avatar l'abbiamo messa dove ci sono l'entità abbiamo messa in pianeti adesso la mettiamo a questi qua che ci rompono le palle con la loro curiosità dimmi che succede allo stipendiato come se è presente la scena come se fosse dracula se prende la luce del sole fa quella roba c'è vedo proprio che da dentro inizio glielo messo sulla mano e quindi da lì è iniziato a proprio a bruciare ok e l'illetterata quella che dice anni lì ho inciso e non sii conciso ce ne vuole ragazzi sii coincisa dimmi che cosa succede anche lei draculessa e anche lei draculessa vero a ok daniele che controlla le sessioni cosa succede bruciato anche lui c'è vedo proprio che diventano luminosi ma che si bruciano dentro frank di board che gli succede perché ognuno non ce l'ha in casa collaboratori francesi spagnoli argentini italiani polacchi rumeni a tutti dovete prenderne consapevolezza dovete accettare i po i po e il conto sia gli zeri del conto in banca sia i nostri cari ad eternum non si muove ne avete uno in casa è uno che vi segue per sempre non si stacca ma il torno è un gran regalo perché ti produce alte frequenze quindi noi li sappiamo poco due loro no ma è un gran regalo per cui se decide di vibrare alto ti ha fatto un regalo gratis per di più fatto che 20 mila al mese che succede a frank di bordo avevo proprio visto in una delle a casa sono in una stanza penso su ufficio ok è diventato tutto vibrazione tutta la stanza anche lui e lì come se facesse così dalla vibrazione alta perché altissima veramente troppo per lui però lì che vibra insieme alla stanza e al capo di frank di bordo allora sopra una delle famiglie illuminati vedo che come se faccio la scheletro se lui è appena sotto quel frentino una d'eterno ma a tutti i signori qui tutti quelli che hanno fatto un rito ad eterno attaccato al culo sarà vero quello che facciamo fischio 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 fischi ma sono dei fischi ci sono dei fischi e adesso ancora ma io non li sento una batteria no vai a certo sì sì giuseppe li sente mettiamo al più vecchio roccia il che possibilmente il capo il alterno ma tutti addosso tipo e quei pupazzi fatti di palline velcro se ne bastano mille milione se non ne basta un milione un miliardo tante belle palline le disegniamo anche come smile tutte gialle con loro due occhi e sorriso nero devi che succede elena come se lui dentro cioè come se la sua essenza fosse svanita cioè quindi la sua corpo fosse svanita è rimasta sono rimasti questi questo milione di ad eterno ok che tengono la forma e poi ha iniziato a vibrare tutto intorno espandersi la vibrazione tutto intorno tutta intorno al a quelli che interagivano interagiscono con rocci con il capo di rocci quindi proprio una cosa così e quindi stavo guardando stavo vedendo l'effetto di questa cosa questa onda vibrazionale che si estende e poi vedo dall'alto vedo tutti i puntini di dove gli ad eternum stanno praticamente bruciando questi soggetti in tutto il mondo lo stipendiato e l'illetterata che fanno ma sono lì che sono sotto l'effetto della mega vibrazione causa sotto il rica del fischio di adesso era un altro un altro militare che ha provato a interferire hanno mandato un altro va bene giuseppe è interferito allora quell'intetà mentale lì ed è l'unica a solo quella poi a c'è c'è un falconiforme ok che controlla il fatto che lui stia in quel che continua a fare il suo lavoro in quel posto lì hai detto questo che chiedono falconi il falconiforme e si grifoni falconiformi sono sempre legati al mondo militare e poi c'è c'è un rettive posso già cercando di guardare chi c'è sopra perché lucio che si ha credo scelto se siccome amo dimmi di mio progetti dico potrebbe essere allora a una faccia muso direi non è proprio faccia un muso tipo no tipo quello potrebbe essere un muso tra un ragno uno scorpione ma ragno scegliamo ok e poi c'è tipo una roba che tipo delle potrebbe essere delle antenne ma rigide tipo che le ma che sono ad antenna così a un insettoide si visto in una forma strana si ok rettile ecco allora si direi che la bocca il muso sono più tipo formica e poi rigida coste robe sopra sono quindi i settori di falconiformi rettili saliamo abbiamo zeus e udino vabbè evidente tali la tre ma se impianti impianti ne ha tre ne ha uno a livello dell'occipite e due sul dorsi del piede dei due piedi una dalla parte una dall'altra e impianti mentali e ce n'è uno in mezzo tra il cranio tra il cervello e il cranio in mezzo qua sopra a gestire l'entità mentale 3 si 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 e dl ce n'è uno che gira allora io vedo è molto chiaro chiaro già da un po che con giuseppe fanno tanta fatica c'è sono hanno mandato le entità molto potenti perché con lui fanno molta fatica sono anni e anni che devono metterci tanta energia tra virgolette per far sì che lui rimanga dove loro vogliono che rimanga perché fanno veramente tanta fatica leon curiosone lui cerca in qualche modo la verità si nonostante lui lavori per loro di fatto eh sì però riescono a tenerlo bloccato lì riescono a lavorare in maniera suddola a livello di entità mentali e sì quindi con l'entità mentali impianti e le dl riescono a tenergli le vibrazioni basse e far sì che lui rimanga lì e come se a ti descrivo proprio l'immagine che ho ci sono le tre interferenze le tre entità e tiri tre interferenze eteriche c'è un questo grosso cubo ok parallelepipedo ok che rappresenta la vita di giuseppe ma di cui una grossa festa fetta il suo lavoro ok e loro sono sopra che come se continuassero a chiudere i bordi perché lui riesce sempre trova sempre il modo per aprire almeno un bordo per riuscire a uscire ok quindi lui apre sta per uscire glielo richiudono poi di come se lui dicesse cavolo mi sembrava aperto vabbè provo da un'altra parte ok quindi c'è proprio questa immagine sono sempre lì a chiudere gli bordi perché lui riesce sempre a trovare il modo per aprirli ok veniamo ci sono ad action e ci sono delle abduction eteriche che fanno sì che le sue frequenze rimangano basse quanti al mese 5 circa al mese cloni no ok sogno si sente sollevare quale è stata un'attaccia fisica ma di tanti anni fa sogno vede su marte i genitori più o meno da nessuno ci è andato veramente lì vedo che netterico ci è andato veramente che lì erano i genitori sì che facevano lì dicono stavamo esplorando però lì allora erano i genitori fisicamente hanno usato le figure dei genitori ma non erano i genitori è come non erano loro hanno usato il loro aspetto e la loro voce ma è cosa una missione una dacson di cosa si trattava allora perché apparentemente è come se ci fosse andato lui volontariamente però in effetti da dietro allora allora io vedo lui che va volontariamente ok però è come se quando si sposta è come se si spostasse da casa sua a a marte ok fermo lì è come se fosse legato a un carrello trasportatore dalla testa ok e quindi va volontariamente lì ma come se verso andare fosse obbligato c'è anche andare da un'altra parte ok ma cosa va a fare allora cosa va a fare in realtà lui ma cosa va a fare lui niente in teoria nel senso che va perché lo fanno andare direi è per fargli credere che lui va volontariamente la vabbè è un esperimento che però non è andato a buon fine perché lui poi non sono più riusciti a fare questa cosa cioè il loro obiettivo era fargli fargli farlo fargli le abduction ok anche fisiche poi in seguito facendogli credere che lui volesse andare là è un po come ecco essere arrivato è un po come la storia la che stanno raccontando no verranno gli alieni buoni a salvarvi e dovete salire sulla navicella per essere salvati una nuova così ok episodio in cui questo credo sia successo davvero cade in acqua di acqua gelata bambino ma si salva per miracolo e ci infilo anche un incidente d'auto in cui vivo per miracolo vabbè niente li hanno dovuto far credere vabbè parte ci sono state delle abduction lì ok durante gli incidenti ma li hanno voluto far credere in più che lui aveva al potere di sopravvivere sì questo è un caso super comune no tanti incidenti in cui la scampi allora la prima spiegazione che l'uomo si dà è l'angelo custode sono stato fortunato la spiegazione reale è il fattore non uccide la mucca neanche se gli sparano al massimo la uccide se è malata e può infettare le altre mucche della fattoria ma non la uccide la mucca si vede che la mucca si sta un attimo rendendo conto che i pascoli in libertà sono meglio della stalla con il fieno secco e marcio le fa credere che è meglio la stalla perché fuori c'è il lupo che se la mangia le fa fare un incidente ma la salva e la mucca dice certo la stalla la cosa migliore io sto dette buona adesso ho capito questa situazione esatto il fattore non fa fuori la mucca almeno questa la voglia maniera anche un po fuori da una similitudine la similitudine qui viene a mancare io comunque la mucca che mi dà arne latte peti quello che vuoi l'età a me che può avere un valore ha un valore ha un valore ha un valore come un ottimo fertilizzante non ci guadagni che sa che cosa ma anzi a volte se qualcuno se lo viene a prendere se ben contento ma ha un valore la mucca da io non perdo quello che dà la mucca esatto non sono stupido però mi invento degli escamotaggio per fare in modo che alla mucca no non vengano strane idee qui è la mucca ed il fattore diciamo gli incidenti si è giusto appena uno da spirito qui c'è da ragione autode non ci creda queste cose no 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 infatti e quindi io posso sopravvivere autonomamente c'è mi salvo sempre ecco perché io sono io e quindi mi salvo sempre c'è gli hanno fatto credere che a questo superpotere c'è che in realtà tutti avremmo ma spesso fanno credere che lo fanno dall'esterno ok come dicevi tu l'angelo custode così ma lui ha con lui non ha funzionato però il fatto è quello no ok va bene chiamiamo al cinema due personaggi vivi la figlia ed il fratello il cinema è il posto in cui invitiamo le persone viventi e dove proiettiamo la sessione la vedono anche se li invitiamo alla fine è come se la nel cinema si prende atto della sessione già venuta e si può rimanere fino alla fine chi non si presenta evviva chi si presenta evviva al quadrato partevo dalla moglie si presentata voglia si è presentata e è molto divertita perché è come se vedesse la sessione da un'altra prospettiva le piace questa altra prospettiva eterica così può ok nella figlia e il fratello questi ultimi due non hanno un ottimo rapporto con giuseppe si vengono perché ma è la figlia vuol bene al papà e quindi diceva prendiamo a vedere cosa fa ma anche fratello arriva così un po indifferente un po vedo com'è se mai me ne vado ma si siedono un po distanti dalla moglie di giuseppe benissimo chiamiamo i genitori di giuseppe vediamo se si presentano e se sono legati alla terra allora si presentano insieme arrivano assieme li vedo più che altro legati a a un'idea a un'idea di come funziona ma non so come spiegarti perché vedo vedo l'immagine no e so che un'idea come se ci fosse una scia energetica blu ok che sta sopra la terra e loro erano lì e queste scia energetica blu contiene tutto ciò che una persona dovrebbe fare nella vita come routine ok quindi vabbè avere dei figli crescere andare a lavorare guadagnare questo cosa sento quei genitori non ho capito le viste arrivati c'è sono legati hanno questa sono legati a questa energia qua i genitori riconoscono il figlio ma ok si sono legati alla terra sì sì sono legati al figlio ci sono attaccati a lui no 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 a qualcosa della terra di fisico come case luoghi oggetti persone no 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 sono legati a questi dire basta sono interferiti hanno quest'anno si hanno interferenza e la stessa interferenza come se è come se fosse interferita la coppia da mitano la stessa tra di loro si falconiforme che è quello che crea questa idea qua a che se non li avessimo chiamati si sarebbero reincarnati se sì quando lui e quando lei allora lui fra 12 anni in canada al confine quegli stati uniti tipo vedo sulla costa orientale potrebbe essere che bec che bec nasce un bambino una bambina o un animale o una pianta no no nasce asce un bambino lei invece siri si rincarna si sarebbe reincarnata fra 36 anni a singapore maschio a far cosa vedo che poi nasce in questa famiglia dove ci sono 56 figli e lui però tipo il terzo e poi lo vedo da grande che lavora tipo nell'informatica che gestisce però una roba tipo una cosa tutta tecnologica con delle cose va bene apriamo il portale aureo se no queste vite non hanno mai fine attraversando nel portale aureo si spoglia se vogliamo del falconiforme in questo caso degli intenti di me posso dire una cosa la cosa che c'è in mente che è sempre così però mi viene da tirla è che essendo legati c'è così legati a quest'idea si sarebbero reincarnati cercando di fare sempre comunque secondo questo schema di idea che quindi poi li vedevo in una casa con una famiglia questo è così che si fa ti devi sposare è una cosa che riguarda tutti strane poche eccezioni sì sì no infatti però e c'è proprio c'è c'è proprio un'idea è come se fosse un nastro come se fossero legati da quest'idea no proprio un nastro proprio ma non so come descriverlo proprio un nastro di volanna no sei il nastro tipo di tulle tu comunque la naso ciocchi di tulle trasparenti si blu però i genitori possono avere questo portale a concludiamo con i genitori se vogliono lasciare un messaggio giuseppe questo è il momento per farlo siamo orgogliosi ti vogliamo tanto bene dicono altro dicono che hanno 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 recepito completamente la consapevolezza data gli da dalla da quello che gli ha mostrato che gli sta mostrando adesso e che quindi si sono hanno capito molte cose si sono liberati di molte cose basta va bene li lasciamo andare dimmi quando sono andati e così da un'occhiata fine per vedere dove vanno è sentito al portale aureo si sono fermati fluttuano nel portale aureo senza basta sono lì ok ma si sono spogliati di interferenze sono diventati l'energia del portale aureo non sono più donne uomo no 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 sono la madre no no sono diventati l'energia del portale a causa esoterica del rapporto non sereno con la figlia che è misteriosa che pone un ostacolo una barriera con il padre figli ammelli nel cinema questo l'ho già visto prima diciamo che lei cerca di di avere un rapporto col padre in qualche maniera perché gli vuole bene ma pensa che sia che non è d'accordo lo vede un po particolare ok quindi lei invece segue si sente più a suo agio in una vita normale ok quindi è come se col padre deve impostare vedo proprio come se impostasse una una relazione quindi forse penso che lui sente di freddezza e di distacco recita qualche cosa impostare in quel senso forse se cita un ruolo della figlia e li sente che che è falso si è recitato si è recitato che consapevolezza la figlia percentuale 60 se sta lì nel cinema potrebbe aumentare la stessa domanda per il fratello che è un giudicatore allora aveva già visto prima quando ce lo raccontava diciamo che quando suonavano assieme per il fratello era era una cosa molto bella e piacevole e quindi è come se sorvolasse un po sul esprimere il suo giudizio ok ma non essendoci più quella cosa bella adesso si sente libero di giudicare di dire di far così cosa come se si sentisse c'è come se la sua visione della vita è quella giusta e fratello sbaglia in tutto ok si sentiva diciamo che era un compromesso per andare avanti a suonare sto zitto ecco adesso invece lo sente più questa cosa ovviamente per tutto il suo interferenza che però non c'entrano con con giuseppe causa esoterica dell'antipatia nei confronti delle banche è una vita passata una vita passata lui ha avuto è stato truffato dalla banca di parecchio e quindi da persona tranquilla benestanti si è trovato sul lastrico ma per una operazione ingiusta molto vile da parte di una banca da parte di direttore della banca e allora potevano farlo in quel posto di ok due piccole microscopiche domande personali visto che non parliamo di militari stamattina è caduto il mio modem per terra in mia assenza può essere scivolato molto strano in ogni caso c'è una causa esoterica e la saluta sono entrati di verso tir con il proprio buttato per terra ok chi sono sono questi qui di questo in vista di questa sessione di oggi di questo tipo sì quella di stamattina anche dava fastidio già 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 questa domanda tu lo sai bene c'è questa mensola quest'estate contenitore a rete è davvero caduta da sola ancora lì in mia assenza ma io ero nell'altra stanza buttando a per terra bicchieri e ciotole se ne è rotto solo uno impossibile che sia caduta da sola perché non si è rotta cioè come se una mano l'avesse salto alto che è successo sono entrati c'è hanno avuto un portale ma che si è esatto ci sono fuori tutti qui davanti se il nome e cognome sesso età e mandante allora quello di quest'estate era lo stesso che ti seguiva mandante abbiamo già visto prima qua ce n'è un altro sempre fa parte sempre della di quella di quella parte lì del va bene allora ad entrambi un ad eternum che provi verrà molto più alto vibra un miliardo di più tutte e due hanno un ad eternum che si infila nel loro anno ok e chi non esce più da lì non può più uscire questo perché io l'ho detto lo ripeto lo continuerò a fare perché no perché no qualcuno dirai ma se tu che hai voluto questa esperienza se più o meno a volte non è proprio così perché io non a me non interessa questa roba non non do l'autorizzazione non l'ho data loro piegano queste regole immortali a me non interessa però così come a me è stato tolto qualche cosa con il disagio a loro io regalo qualcosa alta frequenza messa dove voglio io almeno quello me lo si concede ok quello che mi seguiva cosa fa con la sua bella pallina dentro allora che parte diciamo il bruciore da lì per le vibrazioni altissime essi immobili cioè rimangono immobili perché sono talmente arte le vibrazioni che non possono più muoversi come se venissero fulgorati da un fulmine certo anche quando credo che che chi mette le dita nella presa si blocca già esatto talmente alta la l'elettricità che ti passa nel corpo che tu non puoi staccarti infatti fatti tenere a saccare tirato chi una sedia di legno addosso perché quello non conduce solitamente funziona così e l'altro anche l'altro lo vedo quale per sempre mi piace ma d'eterno non si chiama ad momentum non si chiama d'eterno mi spiace è stato creato così faccina smile e a giuseppe è coperta da che royalties dello smile no 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 cosa vuole fare giuseppe si è girato verso il cluster lo vuole guardare ma lui vorrebbe già agire vorrebbe già buttare via tutti i contatti ego che speramos che stiamo aspettando ok dentro chiusa come li vedevi i contratti era un tapirula tipo un urlo trasportatore come le fabbriche continuano a girare i contratti sopra era tipo delle tavolette spesso e così era che così di plastica c'è sembravano di plastica ma tutte diverse tutte uguali allora colore uguale capiva un po la dimensione la forma sempre quella però la dimensione erano dei parallelepipedi ma dentro avevano dei fogli cioè fatte no 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 erano fatte di informa allora era questo oggetto no che un parallelepipedo io c'è possiederti di plastica che era formato c'è dentro era pieno delle informazioni del del contratto o dei contratti di una vita di una determinata vita a seconda di quanti contratti quella vita aveva era più grande o più piccola ok 927 pacchettini chiamiamoli così se uno per vita se erano le per vita uno più grande uno più piccola a seconda del tipo di contratti quantità e timori e peso dei contratti e eliminati sì ok avatar allora oggi lo vedo fa allora sotto sempre con il manichino quello meno così ma sopra cioè rivestito da quella gomma plastica che usano per dei manichini che usano nei negozi quindi oggi la face delineate ben definita però sotto è uguale è solo una maschera tra gli occhi dipinti la bocca quindi sono fissi gli occhi sì sì perché si è messa sta pagliacciata in faccia cerca di camuffare ecco la ciume si fa bene che vuole fare a giuseppe ha già aperto il portale definitivo e ha ribaltato tutto dentro benissimo con questa nuova condizione giuseppe ha ancora le connessioni con i militari l'entità mentale numero 3 livello 3 fa con i formi rettili identità insetto ragno e scorpione il clone non mi ricordo se c'era male si pure dl 0 sudino piatti vari ok come vedi il suo attuale lavoro da domani allora alle condizioni di questo momento allora vedo che a livello eterico è come se fosse cambiato qualcosa quindi la prima immagine che mi è arrivata è che cercheranno di proporgli qualcos'altro pur di tenerlo lì perché sanno che lui è pronto ad andarsene ok quindi ho un lavoro più da un'altra parte c'è da un altro settore oppure proprio un altro tipo di lavoro più creati cercheranno in qualche modo di proporgli qualcosa per non per non per tenerlo lì perché vi possono controllarlo e abbassarli le vibrazioni vedo proprio che succederà per qualcuno gli dirà qualcosa di questo genere con le condizioni di adesso lui arriva andrà al lavoro con la consapevolezza che mollerà quel lavoro lì a breve con l'idea di che saprà già cosa fare quale tipo di lavoro fare quale quale lavoro vorrà fare per essere felice c'è una lucidità una lucidità tale che non avrà proprio dubbi non avrà freni ma la condizione di oggi potrebbe anche fare per pensionamento insomma credo che ci siano gli estremi sì 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 certo lui sa in che direzione c'è vedo proprio che lanciatissimo senza paura senza esitare e andrà tutto esattamente come lui vuole che vada per essere felice come si chiama chiamava il suo progetto debutto perché perché come se era facevano tante simula allora le cose che andavano diciamo alle erano tante prove per poi fare una cosa ben programmata e iniziare da zero un certo controllo di una certa cosa così in tutto il mondo il progetto dello stipendiato come si chiama controllo del pensiero ok il progetto dello stipendiato che mi deve controllare fa sempre parte dello stesso c'è il nome di tutto di quel progetto lì è sempre controllo del pensiero ok e quella che faccio quello che faccio io a un po è un progetto che ha un nome militare no io no però un progetto un nome immagino di no ma non fatti no no stavo cercando di verici di essere sicura se stavo guardando ma assolutamente no non c'entra niente anzi no no è tutta roba nostra non avanti cosa vuoi dire è anzi che hanno visto che è molto potente quindi per quello che cercano di interferirci perché stiamo veramente facendo un lavoro cristalli sta mettendo il bastone tra le ruote non da poco la sessione indagine q2 sta dando fastidio sta lavorando sì sì sta lavorando quella sta lavorando le altre salvando tutto tutto quello che noi facciamo tutti i giorni continua a lavorare inizia essere pesante veramente pesante per loro stanno facendo veramente fatica si dice in vari fonti di informazione che i militari visto che sarà il titolo di questa sessione non sono tutti cattivi non ma sono anche quelli che stanno smantellando il deep state è vero più che militari io vedo c'è ok sono io vedo queste persone addestrate anche a livello fisico e con delle armi ok perché è l'unico strumento che hanno per poter bloccare tutto ciò che è deep state ok però non sono veri e propri militari soldati militari i di a tutti questi qua che stanno lavorando che vanno nei sotterranei vogliono una d'eterno ma testa sì quello che vedo proprio che ho già visto anche altre volte è che se vibri troppo a volte se vibri troppo alto non riesce a fare delle cose che devi fare concretamente quindi possiamo provare a dargliela da usare quando hanno bisogno va bene la mettono in un cassettino segreto e se la vanno a prendere acqua non ha bisogno di tirarsi su sì ma l'accettano sì sì assolutamente ma questa è già una garanzia di validità di quello che fanno sì 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 assolutamente va bene giuseppe come lo vedi a quanto vibra adesso vibra a 5 miliardi ok vick vibrazione informazione consapevolezza una nuova caramella l'accetta se l'accetta è appena accettata è andato già 50 miliardi ok percentuale di consapevolezza nuova 210 psp e psa 60 la pia 40 vite precedenti 325 cassetta cervello nove e mezzo dieci mezza ok messaggio finale della ps della pie di giuseppe a giuseppe che l'ascolta la ps dice hai trovato hai aperto il bordo della scatola e sei anche riuscita a uscirne grazie dice la ps di dice chi dice anche rimani continua così e ricordati che sei in grado di sei in grado così sei in grado di tenere le interferenze lontane vedo 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 come se la strada fosse un tunnel ok di energia che l'energia quella ideale dove se tu continui su quella strada lì le interferenze non possono entrare è quella che le ps delle ps sono in grado da fare di fare già da quando si incarnano da subito è quella che usano loro ok c'è una cosa che non so se posso dire l'ho già vista già prima quando diceva i punti che la sua attuale moglie è la sua fiamma però aveva già visto prima subito e li fassi con la testa wow e questo fa sì che venga mantenuto questo canale fisso 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 se vedo proprio c'è quando sento questa energia è una roba quando se c'è ma lei farà una sessione con noi sì le può giocare assolutamente giocherà a tutti e due in maniera esponenziale proprio lì allora però se lui l'ha fatta sono fiamme non può passare tutto e fatto non c'è questa possibilità lo dico a mio di scala c'è ma c'è cosa può passare tutto di quella della sua esperienza ok quindi se ha delle interferenze che con la sua esperienza di tutte le sue vite diciamo vanno a risolvere tra virgolette le interferenze che a lei quelle vanno via automaticamente ma se ci sono delle interferenze che non c'entrano niente con l'esperienza da giuseppe quelle ci sono ancora tutte le vite che la moglie se fatti esattamente sì sì che non saranno magari tantissime no oppure sì probabilmente sì perché non non è che se le fiamme si incontrano sempre no no certo dipende riprende su quelle che sono rimaste che non hanno la stessa esperienza della fiamma di giuseppe ricordo grandi cose di però mi ricordo che una volta era capitata due persone che erano fiamme e le erano state per un 50 per cento delle loro vite che è veramente tanti impressionante era la metà un terzo ma comunque tantissimo infatti erano attorniati da interferenza che volevano in tutti i modi chiudere questa cosa c'era troppa connessione bene benissimo gran 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 finale bellissima sì quindi loro l'ultima parola è stata grazie lo diciamo anche a noi anche noi e lo stipendiato come sta ancora immobile lì proprio vedi tutti come se fossero sempre attaccati si alla presa la corrente la stan proprio immobili di così strano che adesso invece della connessione perfetta ma infatti ti sento bene mi senti bene tutto bello va bene elena pronta tornare se disconnettiti allora da tutte e tutti